Monica, ma come faccio a fare esperienza? Non mi sento ancora pronta a propormi ai clienti, ho paura di non essere all'altezza, se solo potessi magari affiancare una wedding planner, ma non trovo opportunità, non mi rispondono, chiamano solo quelle che hanno fatto i loro corsi. È più difficile che avere un appuntamento col Papa, lo so mica. Oggi vediamo insieme come puoi fare esperienza e acquisire più sicurezza, anche senza clienti, o meglio, prima di offrire i tuoi servizi a dei veri clienti paganti. Io sono Monica, aiuto wedding planners e professionisti del wedding a crescere e fiorire. In questo canale parliamo di matrimoni, ma parliamo anche di strategie, di marketing, di ispirazioni, di strumenti. Iscriviti al canale, clicca sulla campanella per non perdere i prossimi video e puoi anche avere accesso alle risorse gratuite che ho creato apposta per te e per aiutarti ad avere successo con la tua attività. Se lo vuoi puoi iscriverti con il link in descrizione. Per offrire un servizio di qualità qualunque sia il tuo modello di business, occorre conoscere molto bene gli elementi di cui si compone un evento. E quindi location, catering, coordinati stampati, foto, video, live design, allestimenti floreali, noleggi, intrattenimento. Significa approfondire la conoscenza di ognuno di questi mercati, avere una panoramica complessiva dell'offerta attuale, delle opportunità, delle insidie e una anche più analitica dei dettagli e delle dinamiche operative, magari un po' più sommerse. La tua conoscenza non sarà mai pari a quella di un professionista competente del settore, ovviamente nella sua materia, con cui quindi dovrai sempre porti con una ottima predisposizione all'ascolto. Ma deve essere una conoscenza sufficiente per farti riconoscere da questi stessi professionisti come una leader autorevole e credibile del progetto. Ti serviranno queste competenze anche per anticipare, risolvere eventuali problemi e cogliere determinate opportunità. E poi ovviamente dobbiamo capire come integrare questi servizi all'interno di un progetto, come coordinarne il lavoro. Tutte cose che difficilmente si possono imparare con un corso, per quanto possa essere ben fatto questo corso. Tu questo lo sai, non vuoi essere un'improvvisata, non vuoi lanciarti sul mercato con incoscienza e non vuoi bruciarti. Però qui arriva il problema. Come diamine si fa a fare esperienza? Dove e come faccio la mia gavetta? 5 modi per fare esperienza prima del tuo primo cliente pagante. Punto numero 1, ok, lo abbiamo detto prima, sarebbe bello riuscire ad affiancare delle wedding planner, ma è difficile, lo so, difficile, ma non impossibile. Per cui questo è il nostro punto 1. Le agenzie più grandi sono poche, in genere si tratta di solo pruner, al massimo due soci e chi organizza anche corsi tende a dare precedenza ai suoi allievi ed è normale, è naturale, non te la devi prendere sul personale. E comunque, non essendo un mercato dei grandi numeri, le possibilità sono sicuramente inferiori alla richiesta. Non riesci a farti considerare? Non rispondono alle tue mail? Tu fatti notare! Non inviare sparando colpi nel mucchio come se avessi una mitragliatrice. Non scrivere lo stesso messaggio, coppia, incolla a tutte le wedding planner del tuo territorio che trovi su matrimonio.com. Devi invece fare più il lavoro del cecchino. Quindi, documentati, esplora, seleziona con attenzione le wedding planner che senti più affini, commenta i loro lavori quando li pubblicano, interagisci con i loro profili, dimostra apprezzamento che non è una finzione, è un apprezzamento reale perché le hai selezionate con attenzione prima di farlo, ricordi? Quindi, ingegnati a capire che tipo di aiuto potresti offrire loro. Perché ho tanta voglia di imparare? È apprezzabile sicuramente, ma è anche un po', pensaci, un po' egoista come approccio. Dovrebbe essere un win-win. Ho capito che vuoi imparare, ma cosa puoi offrire? Non ti verrà regalato nulla, ma ti assicuro che se vorrai, fortissimamente vorrai trovare delle opportunità, le troverai. Punto numero due, non solo wedding planner. Potenzialmente tutti i fornitori possono aiutarti ad approfondire le tue conoscenze, possono offrirti nuovi stimoli, nuovi punti di vista. Quindi, stoccherà i partner con cui vorresti collaborare. E anche qui, cercateli bene, studiateli, frequenta i loro social, commenta i loro post, impegnati a scrivere le mail con quelli contatti. E poi cerca di incontrarli, intervistarli, offri valore e aiuto. Ma, soprattutto, usa il referral, il meccanismo di segnalazione di referenze. Ora ti spiego. Magari hai lavorato o hai conosciuto un fotografo, un fiorista, un catering, una location con cui ti sei sentita particolarmente affine. Bene, chiedi a lui non solo di presentarti, di segnalarti fornitori con cui ama collaborare. E la proprietà transitiva spesso funziona. Se poi riesci a chiedergli il favore di alzare la cornetta e anticipare la tua chiamata o la tua email, bingo! Quindi un catering, un fiorista, una location, un fotografo, di che tipo di aiuto potrebbero avere bisogno? Sicilia, che ha fatto con me la Masterclass l'anno scorso, ciao Sicilia, è riuscita in piena pandemia ad offrire il suo aiuto su oltre 15 matrimoni in giro per il nord e il centro Italia. Affiaccando per lo più fioristi, ma si è portata a casa una chilata di esperienza. E poi amica, non solo on site, non solo sull'evento. Magari scrivi bene, sai usare bene i social, conosci Wordpress, sai montare un video, sai impaginare con una bella grafica? Che tipo di aiuto puoi offrire loro? Sai qual è anche un modo per fare esperienza, anche se parecchio, diciamo, edulcorata? Ricorata? Gli style shoot. Se non sai che cosa sono, si tratta di servizi fotografici che riproducono situazioni, contesti, atmosfere, storie, diciamo, legate al mondo dei matrimoni. Più spesso riferite a cerimonie e ricevimento. Quindi si mette insieme un team di fornitori con cui idealmente si condividono target, valori, visioni, obiettivi e lì si coordina al raggiungimento del risultato. Oltre a servirti per raccontare il tuo posizionamento, per costruire il tuo portfoglio e per darti visibilità, ti aiutano anche a fare networking e raccogliere preziosi insight direttamente con i collaboratori. Perché il clima è generalmente più rilassato, non si corre dietro ai tempi di un vero matrimonio e si ha più controllo su vari fattori. Quindi approfitta di questi momenti un po' più rilassati sul set e chiedi, 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 con garbo, educazione, rispetto, ma chiedi. A quel punto loro smettono di essere fornitori, diventano persone, a volte diventano anche amici. E da queste conversazioni puoi portarti a casa preziosi consigli, osservazioni, riflessioni. Tu sei sempre pronta all'ascolto. 4. Offri i tuoi primi servizi ad amici e conoscenti al solo rimborso spese. Come quarto punto perché suggerisco di aver già fatto i primi tre punti. Così, in questo modo, se hai fatto i primi tre punti, sarà più facile trovare anche questa opportunità e sarai più pronta. Meglio per nulla che per poco. Deve essere chiaro a loro e a te che è un dare e avere. Quindi tu li userai, diciamo, per testare i tuoi processi, il tuo metodo, i tuoi strumenti. E userai loro tanto quanto loro useranno te. Buoni tema, ci ho provato diverse volte a offrirmi gratis e hanno rifiutato il mio aiuto. Ogni tanto ricevo un messaggio così. Ci sta, magari sono coppie che per varie ragioni non avrebbero voluto una wedding planner o che ne volevano magari una con esperienza ed erano anche disposti ad investirci su. Tu dovresti invece riuscire a pescare nel mezzo. Cioè coppie che avrebbero anche valutato la wedding planner ma non avevano il bacio. Se non hai ancora trovato la coppia giusta, insisti e ricorda di chiedere l'aiuto al tuo network. La coppia potrebbe esserti segnalata anche da una location o da un altro fornitore. 5. Servizi più piccoli, consulenze specifiche. Magari non ti senti ancora pronta ad offrire il servizio completo, ma forse una consulenza magari più piccola sul budget oppure una ricerca location. Tu parti dalla tua comfort zone. E se una comfort zone ancora non ce l'hai, parti da dove puoi acquisire più facilmente e più velocemente le tue competenze. Ok amica, è vero, ognuna di queste esperienze sarà parziale. Non sarà completa di tutte le tasche e competenze che sarebbero necessarie invece per gestire un vero progetto con un vero cliente pagante. Ma se le metti tutte insieme ti assicuro che ti aiuteranno a farti sentire più sicura di te e di quello che hai da offrire. Provare per credere. E noi ci vediamo la prossima settimana.